Io non voglio soci, lavoro da solo. Ha chiesto un colpo da 2 milioni di euro? Sono reati gravi. Un po' di truffa, un filo di millentato credito. Il dottor Pisello. Ridi. Adesso piangi. Godi. Come ha detto, scusi? È la magia dell'arte. Spargi gioia e prendi grana. Quando qualcuno c'è di loro, la gente cosa risponde? Corri! È legalissimo proprio. Grazie a tutti.